Buonasera a tutte e a tutti, grazie per la vostra presenza e un benvenuto al professor Nicolò Scaffai e al professor Franco Nasi. Ringrazio di essere qui con noi oggi per parlare di letteratura e di ecologia. A partire da una bella antologia che ha curato il professor Scaffai, edita da Inaudi, Racconti del Pianeta Terra, che raccoglie scritti di autori, di autrici e autori della letteratura mondiale contemporanea che parlano e che narrano la crisi ecologica di oggi del nostro pianeta nell'era dell'antropocene, che è la nostra, quella in cui viviamo. Antropocene ormai è diventato un termine familiare e quindi il significato credo che sia noto e chiaro a tutti. È quell'era in cui l'uomo è diventato il principale agente della trasformazione del nostro pianeta. Ecco, in questi racconti ci invitano, ci aiutano proprio a ragionare e a riflettere sul modo irresponsabile che abbiamo avuto di abitare il mondo, che è la nostra casa, l'unica casa che abbiamo. E ci mettono anche davanti all'emergenza attraverso l'immaginario letterario, che spesso ha anche dei tratti apocalittici, ci mettono davanti proprio al rischio, all'emergenza ecologica e all'urgenza di intervenire, di fare qualcosa per fermare, per arrestare questo rischio. Attraverso azioni che sono diverse, se leggerete, se acquisterete il libro che è in vendita, speriamo che arrivi, parlano diversamente. Per esempio Jonathan Franzen parla di piccole azioni anche quotidiane, di azione di prossimità. Invece Margaret Atwood pensa invece a che sia necessario un intervento globale per arrestare questo problema. Quindi sono racconti che diventano anche degli atti critici e politici. Non a caso il termine ormai che viene usato per questa letteratura ecologica è ecocritica. Ecocritica è diventata anche un filone di studi che è entrato anche nelle aule universitarie e che studia proprio il rapporto tra uomo, ambiente e natura che si è sviluppato nei secoli fino ad oggi, attraverso le opere letterarie appunto. E Nicolò Scafai credo che sia stato un'apripista di questo filone di studi. Ha pubblicato nel 2017 proprio un libro per Carrocci intitolato letteratura ed ecologia e oggi appunto presentiamo quest'altro libro che è un'antologia di racconti come abbiamo detto. Nicolò Scafai insegna critica letteraria e letteratura comparata all'università di Siena dopo essere stato, dopo aver insegnato per anni all'università di Lausanna, letteratura contemporanea. Dirige il centro studi Franco Fortini ed è nel consiglio direttivo dell'associazione di Compalit che è l'associazione di teoria e storia comparata della letteratura. Un altro ambito di ricerca e di studio è la poesia. Ha pubblicato per Carrocci sempre il lavoro del poeta e ha curato testi montagliani pubblicati da Inaudi. Franco Nasi, lo conoscete, reggiano, traduttore e saggista, insegna letteratura anglo-americana all'università di Modena e Reggio e anche teoria della traduzione. E' anzi uno degli autori più prolifici in tema di traduzione. Ha pubblicato tantissimi libri, alcuni proprio anche che si muovono tra il saggio e il racconto come Translators Blues e poi Traduzioni Estreme, Tradurre l'errore e poi con Angela Albanese, l'artefice aggiunto, riflessioni sulla traduzione in Italia dal 900 al 75. Anche lui si occupa, ha tradotto e curato molti libri di poeti, poeti contemporanei e non solo, College e poi fino a poeti contemporanei come Whitman, Billy Collins e tanti altri. E recentemente sta lavorando a una monografia dedicata proprio a uno dei maggiori pensatori del pensiero ecologico, un norvegese che si chiama Arnenes. Ecco, io vi lascio all'ascolto di questo incontro. Vi ricordo che salteremo un martedì, il prossimo appuntamento sarà fra due martedì, con Giulio Busi e Silvana Greco, che presenteranno questo libro, Amarsi, seduzione e desiderio nel rinascimento. Quindi una rilettura delle grandi opere del rinascimento proprio sotto questa chiave della seduzione appunto e della scoperta così del desiderio e del corpo che è proprio del rinascimento. Bene, vi ringrazio e buon ascolto. Grazie Susi. Buon pomeriggio. Il mio compito qui è semplicemente quello di porre qualche domanda a Nicolò Scaffai. Sono molto felice di avere questa occasione perché, come diceva Susi, introducendo questo incontro, Nicolò è anche autore di questo libro importantissimo, secondo me, letteratura ed ecologia, che è un saggio in cui cerca di mettere a punto alcune riflessioni su come l'ecologia e la letteratura possano essere combinate. L'oggetto del nostro incontro di oggi è questo libro che vedete proiettato qui, la copertina vedete proiettata qui. Quindi io pensavo, in una prima parte, di interloquire con lui, cercare di entrare un po' in questa operazione, cercare di capire com'è strutturata, quali sono un po' i racconti, le storie che vengono raccolte in questo testo. E poi magari nella parte finale fare una piccola incursione molto breve sul rapporto appunto letteratura ed ecologia dal punto di vista più teorico. Ecco, devo dire che quando ho visto l'uscita di questo libro, sono ovviamente rimasto subito molto incuriosito e lo sono andato a comprare immediatamente e ho fatto un errore. Ho fatto un errore non per aver acquistato un libro, ma perché quando sono arrivato a casa l'ho letto subito tutto d'un fiato, come succede a volte quando si ingrana bene nel meccanismo di un libro. Ecco, se posso dare un consiglio, se mai vorrete leggere questo libro, non fate così. È un libro che va centellinato, è un libro che raccoglie diversi testi, che non chiamerei racconti, perché non sono tutti racconti, sono testi. Testi alcuni, diciamo, finzionali in cui si inventano delle storie, in cui il narratore o la narratrice ci raccontano delle situazioni appunto di fantasia create, oppure ci sono altri scritti che potremmo catalogare, forse uso un termine un po' più tecnico, come personal essay. Cioè, sono saggi, gli inglesi li chiamerebbero saggi personali, saggi autobiografici in cui magari l'autore, lo scrittore parla di sé, magari di un rapporto con la nonna, magari poi vedremo un piccolo pezzo di uno di questi saggi personali e poi però da lì parte e diventa una riflessione sul mondo, sulla natura, sul rapporto tra la società e la natura, eccetera. Quindi sono appunto testi che secondo me sono estremamente sollecitanti e vanno presi appunto uno per sera, perché poi ti ritornano in mente e pongono il problema appunto che ormai è quasi inflazionato, dell'ecologia ne parlano tutti, però questi sguardi un po' di formi sulla natura e sul nostro rapporto con la natura. Vengono appunto affrontati in questi racconti ognuno con una prospettiva leggermente diversa e quindi secondo me proprio il modo migliore è prenderne poco alla volta e non lasciarsi prendere dall'entusiasmo della lettura. Ecco, la prima cosa che però mi ha incuriosito nel libro, quando appunto l'ho visto in libreria, era la copertina, che è questa copertina che vedete qui. Quindi io la prima domanda che chiederei al professor Scaffai è proprio questa, se ci potesse commentare questa immagine perché è stata scelta e che senso può avere all'interno del libro. Grazie, grazie innanzitutto al libro Università che mi ospita, che ci ospita, grazie a Susi e naturalmente a Franco, all'amico Franco Nasi per essere qui per la presentazione e a tutti voi che siete davvero numerosi. È molto bello l'effetto che c'è da qui nel vedervi e nel poter commentare insieme a voi per l'appunto questa immagine. È un'immagine che, confesso, non ho trovato io ma mi è stata proposta un pomeriggio mentre il libro era in lavorazione, mentre, lo raccontavo prima a Franco, mentre stavo scrivendo l'introduzione, mi è stata proposta dall'editore che mi ha mandato queste immagini, mi ha detto guarda un po' se ti piace questa per la copertina ed è stata un amore a prima vista, diciamo, è stata una folgorazione perché è un'immagine che funziona molto bene e che, cosa vuol dire funziona molto bene, riassume visivamente delle caratteristiche tematiche e concettuali del libro, che tengono insieme il libro, dei racconti o dei testi che sono qui raccolti. Vediamo allora di che cosa si tratta, perché questo amore a prima vista. Come vedete è un'immagine così armonica nel suo complesso, ma allo stesso tempo contiene degli elementi reciprocamente e profondamente stridenti tra loro, divisa in due da questa linea del litorale, c'è una spiaggia, una bella spiaggia rosata, punteggiata da delle figure umane, di bagnanti, di turisti insomma, che sono piccoli piccoli, già in qualche misura quindi spersonalizzati, sembrano quasi delle formiche umane, che sullo sfondo, anzi di fronte a loro meglio, hanno l'incombenza sublime e terribile, sublime proprio anche nel senso romantico, qui lo dico avendo accanto a me un studioso esperto proprio di questo termine, questo concetto nella letteratura, una massa meravigliosa e terribile, una sorta di montagna di ghiaccio, di iceberg, che ha anche una forma vagamente zoomorfa, una sorta di grande balena o grande squalo bianco che emerge dalle acque è qualcosa che attrae e che incombe, che attrae, che può essere letale e che il pub, gli esseri umani sulla spiaggia, parebbero non avvertire, sembra che continuino a fare quello che normalmente faremmo, farebbero, dei turisti su una spiaggia. Crea dunque quest'immagine che, non l'ho detto prima, lo dico adesso, è opera, è un'opera fotografica, insomma, un montaggio fotografico di una artista svizzero-francese che si chiama Émilie Meury. Ecco, quest'opera, che è intitolata proprio Il cambiamento climatico, crea un effetto straniante, crea un effetto straniante, ci fa attrito, come dicevo, ci lascia attratti e stupefatti e spaventati e affascinati da quello che sta per accadere. Questo insieme di reazioni è quello che caratterizza alcuni, molti, forse tutti, i testi che sono qui antologizzati nel libro di cui parliamo questo pomeriggio e che spesso funzionano, questi testi, questi racconti, attivando un effetto simile a quello che dicevo poco fa, cioè un effetto di straniamento. Che cos'è lo straniamento? Lo sappiamo, è un termine che definisce una reazione che l'opera d'arte letteraria e non solo spesso provoca, cioè ci fa aprire gli occhi su qualcosa che siamo abituati a vedere, anzi siamo abituati ad avere intorno a noi ma che non vediamo davvero, ci fa rendere conto di qualcosa che per abitudine non percepiamo nella verità del suo effetto. Con l'ecologia, con le questioni, le urgenze di cui parlava Susi, spesso le cose vanno così. Noi ci troviamo immersi in una dimensione quotidiana in cui giorno per giorno non ci rendiamo conto degli effetti del cambiamento climatico e delle altre urgenze ecologiche, ma se ci poniamo a distanza, se riflettiamo in maniera più attenta, ecco che ci rendiamo conto di quello che la quotidianità ci rende opaco. E qui entra in gioco la letteratura. Qui entra in gioco la letteratura, l'arte in genere, ma la letteratura in specie, perché una delle funzioni, una dei poteri, delle potenzialità, se non altro, che ha la letteratura è quella di farci vedere le cose da un punto di vista diverso. La letteratura ecologica applica questa funzione, applica questa capacità ai temi che ci riguardano, i temi di cui parliamo questa sera, di cui parlano i testi del libro, appunto i temi legati alla, dicevamo, ecologia, certo, ancora più precisamente legati all'epoca dell'antropocene, di cui accennava prima Susi, e che è un termine su cui nel corso di questo pomeriggio certamente torneremo. Quindi questa copertina aveva una serie di possibili, offriva una serie di possibili sollecitazioni che introducevano meravigliosamente al contenuto del libro, contenuto appunto ecologico, ma anche alla forma, al dispositivo con cui questi testi entrano in relazione con la realtà. non solo appunto così, lanciando l'allarme, attenzione, stiamo sull'orlo del baratro ecologico, non solo enunciando questo contenuto, ma anche configurandolo, facendocelo vedere in questa maniera stupefacente, straniante, terribile, avvincente, in una serie di alternanza di reazioni che ci rendono, vorrei dire, più attenti alla realtà. Accendono, aprono gli occhi, accendono una luce, puntano un riflettore, così come la luce bianca accecante che si riflette su questo iceberg, arriva dalla copertina, spero, al lettore. Certo, Franco ha accolto benissimo l'effetto e spero che anche voi da lì lo studiate. Quando ho visto questa copertina, ho preparato questa slide perché pensavo fosse bello partire dalla copertina, mi è venuto in mente un quadro che forse conoscete tutti, che è questo, di Berkling, che è l'Isola dei Morti, che è bellissimo, per la volumetria mi ricorda un po' la composizione di questa fotografia. Questo quadro è conservato nel Museo di Berlino e accanto a questo quadro, nel Museo di Berlino, c'è quest'altro quadro, se si riesce a vedere una riproduzione un po' così, che mi sembra ancora più simile, in qualche modo, alla copertina del libro. Questo è di un pittore che si chiama Wenzel Hablich, è del 1917, ed è curioso perché è sicuramente una sorta di parodia, se vogliamo, riscrittura, diciamo così, di questo capolavoro. Però qui si gioca un po' con la situazione, non c'è una persona che sta andando, vedete, su questa barchetta verso l'Isola dei Morti, quindi sta portando il cadavere verso l'Isola dei Morti, ma ci sono i bagnanti sulla spiaggia e c'è questa isola, vedete i cipressi, quindi mi sembra che sia proprio un richiamo, adesso io non voglio esagerare nell'interpretazione, ma mi pare che sia molto vicino a questo, quindi i cipressi, e poi c'è questo castello che diventa bianco, un po' come quello che abbiamo visto nell'immagine qui, quindi queste volumetrie simili con una vita di persone disinteressate che vivono la quotidianità, il momento, che si croggiano al sole, quando è incombente invece l'Isola della Morte o la catastrofe naturale che stiamo vivendo. Ecco, semplicemente questa è una suggestione, mi è venuta in mente vedendo questa fotografia che mi pare molto significativa per questo libro. Il libro, sempre in copertina, ha un titolo ovviamente, Racconti del pianeta Terra, e quando ho letto questo titolo, siccome sono un po' deformato dalla traduzione, subito mi è venuto in mente il problema di tradurre questo del pianeta Terra. Sapete che in italiano il genitivo può essere soggettivo o oggettivo, cioè sono racconti che il pianeta Terra ci sta raccontando, quindi sono racconti che il pianeta Terra comunica, scrive, o sono racconti sul pianeta Terra, che riguardano il pianeta Terra. È chiaro che quando noi dobbiamo tradurre una lingua straniera, a volte abbiamo dei problemi proprio di fronte a questa scelta, no? A seconda delle lingue. E certamente è un titolo un poco ambiguo, in questo caso, o volutamente ambiguo. Quindi la domanda è, ci sono queste due cose? Anche perché leggendo poi il libro, e partirei subito dalla prima parte, il libro diviso in quattro capitoli, in quattro parti, il primo racconto che noi incontriamo è uno stupefacente, è una stupefacente operetta morale di Leopardi, inaspettatamente, non dice cosa c'entra Leopardi con l'antropocene, in cui ci sono due personaggi che sono la natura e parlano, danno voce alla natura, quindi sembrerebbe racconti del pianeta Terra. La Terra ci sta parlando attraverso questi due personaggi. Quindi se magari possiamo... Sì, grazie, appunto, l'occhio, la sensibilità del lettore, che è anche traduttore, ha colto perfettamente l'ambivalenza di questo titolo, ancora una volta trovato nel dialogo con l'editore. racconti del pianeta Terra, cioè, diciamo, a proposito del pianeta Terra, sul pianeta Terra, ma anche racconti nei quali gli elementi del pianeta Terra, forme di vita o comunque espressioni dell'ambiente parlano sia alla lettera e quindi in chiave anche fantastica, ma parlano nel senso che sono protagonisti, sono soggetti delle storie raccontate. È proprio così, nei due sensi. Racconti del pianeta Terra anche perché a essere personaggi, protagonisti, e in alcuni casi ad avere direttamente voce, sono elementi non umani. E qui è in questo concetto sta una delle dei significati profondi dell'antropocene come categoria culturale. Che cosa intendo dire? Sappiamo appunto perché ormai è entrato nell'uso, comunque spesso ci imbattiamo in questo termine, sappiamo che definisce, come abbiamo ricordato anche all'inizio, un'epoca geologica in cui l'essere umano è diventato forza di impatto, tanto da alterare l'assetto del pianeta, ma l'effetto, uno degli effetti culturali dell'antropocene, dell'antropocene del pensiero, della filosofia, della letteratura, dell'arte che si ispira a quest'idea di antropocene, è che l'essere umano una volta che si rende conto di essere diventato questo, una volta che è cosciente di essere diventato questo, è anche cosciente di essere elemento all'interno della natura che ha modificato. e quindi si tende a percepirsi come specie tra le altre specie, come un tempo dominatore adesso se vuole affrontare l'essere umano la questione deve ripensarsi come elemento tra gli altri. Antropocene e antropocentrico pur assomigliandosi tanto per suono e per etimologia sono concetti opposti ecco se così stanno le cose se questa è una delle degli elementi con cui la categoria culturale dell'antropocene entra in gioco allora le opere letterarie i racconti i testi che ci sono qua sono tenuti insieme una delle dei fili rossi o degli elementi connettivi che tengono insieme questi testi è proprio la prospettiva non antropocentrica per cui sono elementi che agiscono direttamente o indirettamente che parlano alla lettera o metaforicamente anche elementi non umani nel caso dell'operetta morale il primo dei cosiddetti racconti si tratta di due creature di invenzione due creature fantastiche appunto un fondletto e un ognomo è il celeberrimo dialogo leopardiano in altri in altri casi non c'è questa idea fantastica ma ci sono comunque elementi della natura che interagiscono non sono paesaggio osservato non sono oggetto di osservazione conservazione o degrado vari paradigmi con cui si può entrare in rapporto col paesaggio ma sono proprio agenti potrebbe essere anche uno dei brevi testi da cui leggiamo qualcosa però uno dei raccontini perché è breve e anche semplice ma denso di cui sono riprodotte le pagine in questo libro è un raccontino di Mario Rigoni Stern scrittore che tutti noi conosciamo di cui un paio di anni fa nel 21 si è celebrato il centenario quindi questo ha portato anche a iniziative ripubblicazioni eccetera sicuramente vi è capitato negli ultimi anni di imbattervi proprio in Rigoni Stern c'è un racconto qui incluso intitolato Ighiri che faceva parte in origine di una raccolta di racconti di Rigoni Stern nel 1980 Uomini Boschi e Api già questo titolo tre elementi paritari Uomini Boschi tre regni diciamo e Api ecco in questo racconto ecologico in senso lato Rigoni Stern racconta il contenuto diciamo del racconto è la moria di piante in un bosco delle sue terre in particolar modo dell'altipiano di Asiago come sappiamo insomma era il territorio in cui Rigoni Stern è nato e in cui ha passato la gran parte della sua vita però nel parlare di questo di questo tema di questo tema ecologico la moria delle piante non si limita a osservare né tantomeno a così fare un'elegia sulla morte delle piante ma fa entrare in azione gli elementi storici culturali e naturali biologici che hanno portato a questo effetto finale la morte delle piante cosicché la storia umana in cui è l'essere umano con i suoi gesti la gente le conseguenze di un'idea errata di natura e i normali meccanismi con cui funziona un ecosistema sono allo stesso livello cause agenti di questo effetto per cui una specie animale e un essere umano con i suoi atti valgono allo stesso modo hanno le loro azioni si intrecciano e confluiscono a portare a uno stesso esito ecco questa idea di sistematicità o di ecosistematicità di connessione di relazione che è l'idea chiave su cui si regge il pensiero ecologico Rigoni Sterne è bravissimo nel trasferirla in racconto in particolare il racconto inizia dicendo che tutto è cominciato l'innesco diciamo è umano siamo durante la seconda guerra mondiale i nazisti fanno pelare i boschi dove si rifugiavano i partigiani questo gesto questo primo atto evidentemente umano però scatena una serie di effetti che vanno avanti perché la natura funziona in quel modo elimini il sottobosco certe specie si spostano aggrediscono altre specie che a loro volta si spostano proliferano quando non ci sono i predatori naturali e finiscono per aggredire le piante in una catena di concause in un gomitolo di concause come avrebbe detto Gadda che rende perfettamente il sistema ecologico questo per dire che abbiamo citato Leopardi 800 abbiamo citato Rigoni Sterne 900 non autori della più immediata e recente contemporaneità non certo autori che tutti i giorni erano bombardati dalle preoccupazioni ecologiche come lo siamo noi ma che hanno avuto lo sguardo l'intelligenza la sensibilità di percepire e raccontare le concetti e paesaggi in maniera non antropocentrica questo è uno degli elementi che tiene insieme il progetto del libro che è un progetto come diceva Franco articolato in quattro parti che ha al suo interno diciamo un tenue filo storico un tenue filo cronologico nella prima parte ci sono i racconti pre pre contemporanei Leopardi e poi si prosegue con H.G. Wells e con Jack London che sono quindi autori che non fanno parte della cultura del disastro ecologico nella quale siamo ai noi calati e che però mettono per lo sguardo per la prospettiva anticipano temi questioni che riguardano la nostra contemporaneità l'antropocene la funzione antropocene che ve l'ho chiamata nel libro cioè attraverso un insieme di categorie culturali ed ecologiche del presente guardarsi indietro e vedere che cosa c'era prima e come la letteratura di ieri o dell'altro ieri può dialogare col presente senza tradire naturalmente senza attualizzare banalmente ma cercando di capire che cosa quella letteratura può farci percepire meglio sull'oggi e Leopardi funziona benissimo le operette morali sono tutte come sappiamo un libro imperniato di relativismo impregnato di anti antropocentrismo e diciamo demolizione dell'idea di magnifiche sorti e progressive e sono anche un'opera in cui la cultura scientifica aggiornata che aveva Leopardi all'epoca entra nella letteratura il foletto e l'ognomo si preoccupano si preoccupano discutono del fatto che l'essere umano si sia estinto e in questa idea di estinzione c'è di fondo alle spalle la conoscenza che Leopardi aveva degli scienziati che poco prima insomma qualche decennio prima avevano scoperto e interpretato i fossili degli animali estinti quindi c'è un dialogo letteratura e scienza che comincia da lontano prima di arrivare a noi penso che l'hai fatto un lungo giro anch'io ma non so se ho risposto a questa tua prima sollecitazione quindi questo era il primo capitolo appunto raccoglie questi tre scritti appunto di Leopardi di Wells e di Jack London bellissimo quello di Wells adesso non voglio entrare in ogni racconto perché non voglio togliervi il piacere di leggerlo ma questo L'impero delle formiche di Wells è veramente un capolavoro credo poi ricorda anche tutta la storia che scrive Calvino poi dell'arrivo delle formiche in Liguria questa invasione delle formiche è veramente un racconto che toglie il fiato la seconda parte invece ha un bel titolo ed è gli animali ci riguardano anche qua un po' giocato sull'idea che dobbiamo preoccuparci degli animali che hanno a che fare con noi ma sembra che gli animali ci tengano d'occhio in un qualche modo che ci aspettino al varco e qui c'è un primo racconto di cui non pensavo di parlare però mi è venuto in mente proprio rispetto a questi discorsi insomma che si intitola Verso Occidente ed è di Primo Levi ed è un racconto veramente complesso articolato già dal titolo che è una specie di spia verso Occidente cosa succede ad Occidente c'è il tramonto ad Occidente quindi c'è la fine di una giornata forse la fine di un'esistenza curiosamente in inglese si dice to go west che ha significato di andare verso il confine quindi la prateria andiamo come noi pionieri verso lo sconosciuto ma ha anche il significato di morire to go west nello slang americano vuol dire morire e la storia che racconta Primo Levi è veramente terribile perché brevissimamente do solo qualche immagine c'è questa marea di questi roditori che vivono che si chiamano sono lemming che a un certo punto si muovono dalle montagne e vanno verso occidente verso il mare e si buttano nel mare e si ammazzano quindi un suicidio di massa è terribile questo inizio che Primo Levi ci racconta e poi ci sono questi scienziati che cercano di capire perché questi animali si comportano in un certo modo e arrivano addirittura a scoprire una medicina che può fare in modo che questo desiderio di morte venga inibito e non vi racconto altro perché se no poi vi brucio la fine però è bellissimo è complicativo mi è venuto in mente leggendo questa cosa è un film che forse vi consiglio di vedere e soprattutto di leggere il romanzo da cui è tratto cioè White Noise di Don De Lillo Don De Lillo questo scrittore americano contemporaneo che scrive questo romanzo in 87 forse insomma a metà degli anni 80 direi e recentemente proprio tre settimane fa credo sia uscito su Netflix quindi White Noise che ha a che fare con questa idea della contrapporso della paura della morte della paura della fine quindi della medicina di queste pillole che vengono prese a questa protagonista per contrapporsi a questa cosa comunque detto questo questo è solo il primo di questi numerosi racconti che fanno parte di questo secondo gruppo quindi non so se ci vuoi parlare un po' di questa scelta di questi animali che ci riguardano con piacere grazie Franco di aver portato l'attenzione su Primo Levi su cui poi magari torniamo su questo racconto e in generale rispetto questo autore rispetto alla dimensione ecologica però ecco la sezione gli animali ci riguardano che è la seconda come dicevamo dell'antologia ha finito per essere quella più consistente più folta è la sezione maggiore non lo era in realtà nel progetto iniziale è un effetto anche di conseguenze materiali dell'allestimento del libro scelte editoriali concessione di diritti dietro a un'antologia così c'è appunto un lavoro editoriale che va anche al di là del curatore che sono io ma sono molto contento che alla fine sia la sezione maggiore non solo quantitativamente perché la formula gli animali ci riguardano che inizialmente giocava anche sul riguardano quindi c'è uno sguardo di rimando della natura sull'uomo come lo sguardo dell'uomo sulla natura un dialogo paritario ecco questa sezione l'importanza degli animali è concetto chiave di quell'antropocele di cui parlavamo prima questa se questo essere specie tra le specie evidentemente ha come conseguenza il valorizzare il dare valore e importanza alle altre specie e dare valore e importanza dare voce dare anche memoria dare anche memoria che è il tema di alcuni dei testi che sono che sono qui che sono qui raccolti in particolar modo in particolar modo di eccolo qua di uno scrittore premio Nobel per letteratura sudafricano cioè Kezia che nel racconto qui antologizzato racconto una parola che va intesa in senso ampio e lato come giustamente ricordava Franco alcuni di questi testi sono piuttosto dei personal essays sono dei dei saggi narrativi questo è un saggio narrativo mattatoio di vetro in cui si parla come il titolo dice di mattatoi cioè di allevamento e di uccisione degli animali quindi evidentemente sollecitando anche una corda direttamente animalista ma il racconto è importante non solo per questo ma per come interpreta la vorrei dire la missione dello scrittore che si pone di fronte all'animalità alla sofferenza animale vi leggo le le ultime parole di di questo racconto dentro al matatore è per loro che scrivo quelle vite così brevi così facili da dimenticare sono l'unico essere nell'universo che ancora se li ricorda a parte Dio quando non ci sarò più rimarrà solo il vuoto sarà come se non fossero mai esistiti è per questo che ho scritto di loro per questo che volevo leggessi di loro per tramandartene la memoria tutto qui ecco scrivere di questi temi non non solo e in questo caso neanche non tanto per denuncia diretta insomma di quello che è al di là possiamo considerarlo un problema etico oppure no ma certamente è un problema ecologico perché gli allevamenti sappiamo che soprattutto quelli industriali insomma concorrono all'inquinamento in maniera massiccia ma al di là di questo al di là della denuncia c'è l'idea che lo scrittore debba e possa parlare di questi temi per tramandare la memoria di chi memoria non ha o di soggetti per l'appunto a cui non attribuiamo memoria come gli animali gli animali che vanno al macello gli animali in generale ecco quando parlavo appunto di rendere soggetti ciò che normalmente consideriamo oggetti di una narrazione in questo senso anche dargli memoria non solo dargli voci o rappresentarli come animali parlanti in senso fantastico ma anche come soggetti che possono avere attraverso la letteratura una una memoria e mi collego appunto su questo intorno a su questo binomio su animalità e memoria proprio al racconto di Primo Levi di cui parlava di cui parlava Franco premettendo la considerazione la constatazione anzi Primo Levi oltre a essere naturalmente il principale scrittore testimone della letteratura italiana e non solo italiana oltre a essere dunque l'autore che più intensamente gravemente tragicamente ha riflettuto sulla memoria in tutta la sua opera è stato anche un autore anche in grazia della cultura scientifica che aveva è stato anche un autore direttamente interessato alle questioni ecologiche in senso stretto ci sono vari scritti di Levi intorno a problemi ambientali e naturali Levi progettava negli anni settanta di scrivere un libro che avrebbe avuto un contenuto una trama ecologica si sarebbe intitolato doppio legame non lo scriverà poi di fatto in parte quel libro finirà nella chiave a stella però al di là di questo è stato un autore che ha scritto molto e ha rappresentato molto in chiave realistica o fantastica l'animalità le creature animali per questo interesse ecologico e anche perché ha intuito e ha saputo raccontare molto bene come il rapporto tra specie possa essere una figura una metafora un'allegoria come volete dire del rapporto anche tra gli esseri umani e anche tra le categorie umane e anche tra ciò che il regime nazista considerava le razze quindi la rappresentazione del rapporto tra animali e uomo tra dominatore e dominati che da Primo Levi nei suoi racconti sugli animali come questo come verso occidente ha anche questo valore per dire quindi perché sto insistendo su questo punto per dire che l'attenzione diretta e letterale per il tema ecologico non esclude che questo tema possa avere anche un collegamento con altri aspetti dell'opera di uno scrittore o di una scrittrice complesso è un'antologia che vuol inserire le questioni ecologiche in un ecosistema letterario non solo appunto raccogliere testi che direttamente parlano di inquinamento o di crisi climatica ci sono testi che apparentemente sono diciamo più laterali rispetto al tema ma che invece leggendo bene si ricollegano profondamente in questo caso nel racconto di verso occidente il suicidio di massa dei lemmings che si credeva che quegli animali lo facessero davvero non è un'invenzione fantastica quando lei ve lo scrive si pensava che quegli animali facessero davvero questa cosa qui e lo si pensava come dire travisando la realtà ma per colpa vorrei dire di un famoso documentario Walt Disney di Walt Disney in cui appunto si vedevano questi lemmings che precipitavano documentario che Levi ha visto e a cui poi si è ispirato in realtà non era così pare anzi che i documentaristi abbiano contribuito a sospingere i poveri lemmings verso il precipizio in realtà sono animali che migrando in massa affastellandosi uno sull'altro lasciano dei caduti sul campo ma non si suicidano ma questo ci interessa meno quello che ci interessa è che Levi crei una insista su questa immagine e così fantasticamente nel racconto parli di un farmaco che può guarire dal male di vivere diciamo e però è un farmaco che alla fine i personaggi decidono di non assumere perché non si può controllare la natura meglio l'estinzione del controllo è un paradosso un paradosso complesso un racconto molto complesso anche inquietante che attiva tanti elementi perché la letteratura ecologica può fare questo appunto può mettere in movimento tante corde non solo la dimensione green della così della sostenibilità irenica ma anche appunto della della crisi della complessità e ci sono si alternano scrittori così scrittrici classici del novecento c'è un bel testo di Anna Maria Ortese che anche a Franco è piaciuto molto contento con testi di autori stranieri più o meno più o meno più o meno recenti già molto noti appunto come penso a un autore come Safran Foer un autore di fortuna globale o penso a un autore come il tedesco Sebald altri meno noti più diciamo così di nicchia ma che calzavano perfettamente come l'autore che scrive in lingua francese ma ha origini slave che si chiama Antoine Volodin citato Foer ecco Foer è un autore che dice una cosa molto importante rispetto ai nostri temi che si collega molto da vicino a quello che diceva Quezia cioè l'importanza di raccontare per dare memoria ecco il racconto anzi l'estratto diciamo di Safran Foer è intitolato raccontare storie proprio perché il racconto è quello che ci mette in relazione quello che mette in relazione l'esperienza individuale lui racconta di sé della sua infanzia del rapporto con la nonna la nostra esperienza individuale con col mondo con l'altro con la anche con la natura è un rapporto che resterebbe così filtrato indiretto teorico astratto ideologico magari ben intenzionato ma distante se non ci fosse una storia personale che ci fa entrare in un'autentica relazione con con l'oggetto di interesse trasformandolo da oggetto in soggetto ma sì sono anche storie molto divertenti questa di Foer io posso leggere l'inizio sì senza giusto per questo appunto raccontare storie vi leggo una paginetta e mezzo di questo inizio di questo racconto appunto un saggio personale in cui lui poi racconta anche il suo rapporto con i vegetariani con il vegetarianesimo come si dice cioè lui decide che vuole smettere di mangiare carne però poi dopo ci ricade quindi riprende sempre a mangiare carne poi smette e dice citando Mark Twain che diceva la cosa più facile è smettere di fumare io non finisco mai di smettere di fumare c'è questa idea che comunque si riprende sempre allora comincia così i frutti dell'albero genealogico da piccolo passavo spesso il fine settimana a casa di mia nonna quando arrivavo il venerdì sera lei mi sollevava stringendomi in uno dei suoi abbracci soffocanti e quando me ne andavo la domenica pomeriggio mi alzava di nuovo per aria solo molti anni dopo ho capito che mi stava pesando mia nonna è sopravvissuta alla guerra a piedi nudi frugando tra ciò che per gli altri era immangiabile patate guaste pezzetti di carne scartati e quel che restava attaccato agli ossi e ai noccioli della frutta quindi non le importava se coloravo fuori dai margini purché tagliassi buoni sconto lungo la linea tratteggiata e al buffet degli alberghi a colazione mentre noi impilavamo cose su cose come ergesimo vitelli d'oro lei preparava panini su panini e le avvolgevano i tovaglioli nascondendoseli nella borsetta per il pranzo è stata mia nonna a insegnarmi che è sufficiente una bustina di tè qualunque sia il numero di tazze che devi servire e che della mela si mangia tutto il punto non erano i soldi molti dei buoni sconto che ritagliavo erano per cibi che non avrebbe mai comprato il punto non era la salute mi implorava di bere coca cola mia nonna non apparecchiava mai un posto per sé durante i pranzi di famiglia anche quando non restava più niente da fare piatti di minestra da raboccare pentole da rimestare o forni da controllare lei rimaneva in cucina come una sentinella o una prigioniera allerta in cima alla torre per quanto ne sapevo io il sostentamento derivante dal cibo che preparava non richiedeva che lo mangiasse nelle foreste europee mia nonna aveva mangiato per sopravvivere fino alla successiva opportunità di mangiare per sopravvivere in america 50 anni dopo noi mangiavamo ciò che volevamo le nostre dispense erano piene di cibo comprato di impulso le cornie costose di roba che non ci serviva e passata la data di scadenza buttavamo via le cose senza annusarle mangiare era un atto spensierato mia nonna aveva reso possibile quella vita per noi ma lei di suo non riusciva a scuotersi di dosso la disperazione ecco io trovo questo inizio fulgorante la nonna che lo prende in braccio il bambino e dopo un giorno e mezzo vede se è cresciuto se è ingrassato questa idea questo rapporto con il cibo che diventa poi naturalmente una visaglia di come stiamo invece distruggendo tutto quanto abbiamo ecco e questo racconto continua così con le sue peripezie in college quando vuole smettere di mangiare carne eccetera eccetera quindi esperienze di vita personale ecco e questo è uno dei racconti appunto della seconda parte poi ci sono c'è un terzo un terzo paragrafo un terzo capitolo che invece è il senso della fine apocalissi estinzioni e distopie ci vuoi dire qualcosa su questo e poi andiamo verso la chiusura e lasciamo spazio per Susi un po' di domande bene sì ecco la terza parte è quella dei disastri diciamo sappiamo insomma siamo spesso anzi abituati a immaginare anzi siamo esposti a un immaginario non solo forse non tanto letterario ma visuale cinematografico serialità televisiva in cui vengono rappresentati mondi anche il nostro mondo evidentemente sconvolto postumo in cui è successo qualcosa o sta succedendo qualcosa di disastroso e sempre più frequentemente siccome l'apocalisse è un grande archetipo che di secolo in secolo e di età in età si adatta alle ansie che antropologicamente ci abitano l'apocalisse dei giorni nostri è spesso quella ecologica per cui il clima è sconvolto lo scioglimento dei ghiacci ha sommerso o minaccia di sommergere le nostre terre la natura insorge e si ribella insomma in molti casi l'immaginario ecologico viene declinato in questo senso un senso fantascientifico o più propriamente distopico appunto l'opposto negativo di una di un'utopia la letteratura più o meno recente è stracolma di questo tipo di rappresentazione quindi in questo caso l'idea stavo per dire la sfida però adesso non voglio essere troppo enfatico l'idea era quella di scegliere esempi di racconti di testi che non assecondassero troppo banalmente questa questa vena questa vena fantastico disastrosa basta basta non lo so accendere Netflix o qualche altra piattaforma per avere tanto materiale di questo di questo genere allora cerchiamo qualcosa che abbia una qualità letteraria una prospettiva diversa più più originale e i testi scelti sono sono cinque quattro di autori autrici stranieri di lingua inglese e uno di un autore italiano i temi sono per esempio appunto quello a cui facevo riferimento poco fa la la terra sommersa lo scioglimento lo scioglimento dei ghiacci che ha portato a trasformare i continenti in isole o atolli e al contrario poi ci sono racconti in cui invece il riscaldamento è stato tale da provocare una non solo una siccità ma l'asciugatura del mare come nell'ultima pozzanghera di Ballard che è uno degli autori diciamo iniziatori di questo di questo genere e non solo di di questo genere il primo racconto della sezione è di uno scrittore inglese contemporaneo vivente che si chiama Martin Emmis è un racconto vorrei dire ritrovato perché appartiene a un libro che è stato tradotto in italiano negli anni Ottanta ma che poi non è stato più ripubblicato tra le opere più interessanti ma meno note di uno scrittore che per altri versi è stato poi molto seguito e molto letto pubblicato dai Naudi in Italia eccetera è un racconto che si intitola Gli Immortali e ha per protagonista uno strano personaggio è un personaggio narratore che parla in prima persona e che non si capisce bene che cos'è che entità sia cioè vive tra gli umani ma è un immortale vive tra gli umani ma si capisce che ha vissuto così tanto ha visto così tanto e ha attraversato tante epoche da potersi rendere conto meglio degli umani contemporanei dell'abisso verso cui stanno andando ecco appunto ha uno sguardo straniante e ci fa vedere come come non si rendano conto gli esseri umani di stare andando verso il disastro è un personaggio che ricorda molto non so se questo ricordo è così giustificato da una diretta allusione di Emmys forse no però ricorda molto le cosmicomiche di Calvino in cui il protagonista narratore è come ricorderete appunto una creatura un'entità che di epoca in epoca di cosmo in cosmo insomma cambia forma da da elemento puntiforme poi si evolve nelle varie specie fino a diventare molecola animale dinosauro e poi solo alla fine assumere una abitus in qualche modo umano ecco il racconto di Emmys ha come voce narrante il protagonista è una creatura del genere e in maniera forse meno comica ma un po' anche di Calvino ci rappresenta uno sguardo non non antropocentrico anzi neanche da antropos ma da creatura altra su di noi su quello che facciamo su quello a cui andiamo incontro sub specie eternitatis in qualche modo ci fa guardare il disastro imminente e poi c'è l'ultimo racconto di questa sezione di cui mi piace parlare brevemente è un racconto di uno scrittore italiano che si chiamava Paolo Zanotti e che era giovane è scomparso prematuramente più di dieci poco di dieci anni fa e questo racconto e il romanzo che ha scritto dopo espandendo questo racconto si chiama si intitola Bambini Bonsai e ha per protagonisti dei bambini una comunità diciamo di bambini che si trovano a vivere le loro storie avventure anche con uno sguardo fiabesco diciamo sul mondo e sulla realtà in un'epoca sconvolta dagli effetti del cambiamento climatico cui si alternano periodi disastrose piogge allagamenti a periodi di siccità estrema e di forza del sole tale che non ci si può esporre e così via la cosa curiosa di questo tra le molte cose belle di questo racconto e del romanzo non potevo antologizzare un romanzo intero quindi ho preso il racconto generatore diciamo la cosa bella è che il romanzo è ambientato non in un mondo strano e fantascientifico ma a Genova quindi c'è un attrito anche qui tra un paesaggio e un ambiente noto e gli effetti e un'immaginazione di un mondo avvenire che rendono l'esperimento letterario particolarmente interessante e nel romanzo di Zanotti c'è una pagina molto bella in cui il sguardo insomma del bambino di uno dei bambini protagonisti vede in lontananza da una sommità vede in lontananza un qualcosa di strano e mostruoso viene descritto come un grande corpaccione malato morente sofferente nero che sbuffa che si contorce che emette dei rumori sordi in lontananza questo grande corpo sofferente al lettore per molti paragrafi diciamo sembra un animale una creatura un grande cetaceo qualcosa di questo di questo genere solo dopo un paio di pagine capiamo che quello che ci viene descritto è il mare è il mare non un animale ma proprio il mare che è appunto che sta marcendo perché gli animali al suo interno sono morti perché non ha più vita perché emana con attivo odore perché emette un suono sordo perché è scuro come è scuro il cielo che vi si riflette e questo effetto è reso possibile dal fatto che il bambino che lo guarda non ha mai visto il mare quindi non sa che cos'era il mare forse qui Zanotti si sta ricordando di una pagina molto bella delle confessioni di un italiano di Nievo e con questo sguardo ingenuo del bambino ci fa vedere anche a noi come se fosse la prima volta il mare trasfigurato dagli effetti disastro da un disastro ecologico quindi è una distopia che però non è un semplice soggetto fantascientifico come in tanti film ma è una distopia che ci fa riflettere che ci fa vedere le cose con occhi con occhi nuovi ecco torno a una cosa che ho detto all'inizio che cosa può fare la letteratura le distopie ma in un senso non di letteratura o immaginario di consumo come ce n'è tanto questo ci porta all'ultima sezione c'è un racconto una storia anche in questo caso di Gauche che ha proprio a che fare con questo ci racconta di un evento a cui lui ha partecipato reale ma talmente sconvolgente che non può essere letteratura secondo l'idea che noi abbiamo di letteratura cioè non si venderebbe un libro in cui venisse raccontato quel fatto e quindi c'è una posizione diversa rispetto alla letteratura diciamo di mercato a un certo punto lui dice inutile negare che la crisi climatica sia anche una crisi della cultura e pertanto dell'immaginazione ecco non so se vuoi commentare questa frase che mi sembra molto la rileggo solo un attimo inutile legare che la crisi climatica sia anche una crisi della cultura e pertanto dell'immaginazione è proprio è proprio così cioè questa questa antologia voleva anche dialogare con questa con questa frase con questo concetto di di Gauche il brano che abbiamo letto e in generale il testo che è qui antologizzato è una parte di un libro di Gauche che in italiano è stato tradotto con il titolo La grande cecità che cosa si intende in questo caso con cecità la difficoltà di vedere o forse ancora meglio di far vedere nella letteratura le grandi e urgenti questioni ecologiche in maniera seria non appunto come distopie fantasie proiezioni nel futuro come così ansie che si trasferiscono in un immaginario catastrofico ma nella racconto della quotidianità perché dice Gauche come ci ha letto adesso come ci ha detto adesso Franco Nasi questi eventi vengono vissuti ora realmente ora forse anche anche da noi in Italia ma certo le latitudini di cui parla e le esperienze che ha fatto Gauche riguardano l'Asia dove gli effetti in certi paesi in certe zone gli effetti del cambiamento climatico sono da molto tempo già minacciosi ed evidenti allora dice Gauche il romanzo il racconto la letteratura deve imparare l'opportunità e la difficoltà al tempo stesso è quella di imparare a raccontare queste cose non proiettando in uno sfondo di letteratura di genere fantastica ma facendola entrare nell'esperienza quotidiana insomma facendo sì che il Gauche forse un po' in maniera un po' semplicistica ma efficace il romanzo borghese realistico deve smettere di parlare soltanto di così famiglia amori tradimenti padri figli eccetera ma se non altro inserire in questa realtà anche quell'altra realtà che ci circonda e che i romanzieri magari vedono ma non riescono a raccontare fanno finta di non vedere e quindi bisogna aprire gli occhi e questo libro di Gauche il testo e la frase che ha letto adesso Franco Nasi rappresentano un un grande invito alla letteratura agli scrittori ai critici e ai lettori naturalmente a cercare di individuare i modi in cui la letteratura seria realistica può raccontare anche ciò che fino a ieri o fino all'altro ieri ci appariva fantasioso magari non siamo mai stati dei negazionisti climatici ma pensavamo che fosse qualcosa che avrebbe interessato un futuro più o meno remoto invece qui adesso dobbiamo raccontarlo perché raccontandolo lo si vede lo si impara a vedere a capire eventualmente anche a reagire quindi in questo senso il libro di Gauche è veramente una chiave grazie io lascerei la parola alle domande a voi se ci sono domande grazie Franco grazie a te bene abbiamo ancora qualche minuto per qualche domanda prima bellissimo intervento molto profondo dolce ma forte allo stesso tempo tutte queste persone che lei ha citato hanno visto i problemi e li hanno interpretati a modo loro ognuno con il proprio cuore con la propria testa con la propria immaginazione anche su come sarebbe stato un futuro siamo indubbiamente in un momento di emergenza non c'è un piano B come diceva la Greta la signorina Greta hanno parlato dal punto di vista letterario romantico teorico reale addirittura ci si potrebbe collegare anche a delle invasioni di extraterrestri volendo fantasticare sull'emergenza del momento reali non c'è più il tempo non c'è tempo ma non ho notato mi correggerete se sbaglio e sono qui per imparare e se sbaglio mi corrigerete diceva quel famoso nessuno di questi signori di loro signori scrittori aveva dato un'indicazione su come intervenire per togliere queste emergenze ci troviamo oggi anno 2023 diciamo con le situazioni che vediamo non sto a citare per l'orario e perché tutti quanti lo sanno si costruisce dove non si può eccetera loro lo hanno visto a mio avviso modestissimo sotto un punto di vista letterario e il libro lo prenderò ed è stupendo sotto l'aspetto letterario e di racconti come dice ma il pianeta terra sta urlando ci sta gridando che ha bisogno a mio avviso noi nel nostro piccolo orticello nessuno di noi sta facendo sufficienza e nessuno di loro autori che lei ha citato primo Levi che lei ha citato anche lei nomi stranieri che sono sincera non tutti li conoscevo mi sbaglio o nessuno ha dato una dritta all'ora affinché ad oggi noi arrivassimo in questo mare di morte perché credo che tutto ciò ci porti come diceva lei in quella frase inglese west est alla morte sicura grazie 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 se vogliamo raccogliere altre domande altri interventi puoi magari sì grazie signora per questa per questa riflessione che è molto importante per varie per varie ragioni una delle ragioni è che da un lato ci consente di parlare di alcuni autori che diciamo avanzano delle proposte e però anche più in generale ci permette di riflettere un po' su qual è la la funzione della letteratura rispetto alla realtà ora per quanto riguarda il primo il primo aspetto cioè come intervenire quindi che cosa se non dico fanno ma cosa propongono no? ecco lì gli scrittori uno uno di questi autori che ho entologizzato è uno scrittore americano contemporaneo vivente che si chiama Jonathan Franzen scritto Franzen quando preparavo questa antologia mi ricordo che avevo scelto diversi testi molti dei quali sono poi finiti effettivamente nel libro però uno dei così degli editor di Einaudi con cui lavoravo a un certo punto mi chiede mi fa una domanda semplice ma ficcante ma in questo libro c'è speranza anzi più meglio dov'è la speranza forse la domanda come dire era fatta anche dal punto di vista di un editore che non voleva dare al lettore un libro troppo cupo e mi sono messo a pensarci un po' e io ho messo alla fine del libro l'ultimo testo e quindi l'ultima parola o frase del libro che contiene la parola speranza e questa frase questa parola si trova nel testo di Frenzen che dicevo che si intitola e in realtà anche quello è un personal ess un saggio narrativo che si intitola e se smettessimo di fingere cioè se smettessimo di fingere dice Frenzen che il cambiamento climatico con tutto quello che sappiamo è reversibile e non prendessimo atto che in sostanza non si torna indietro e che dunque possiamo provare a fare qualcosa per diciamo arginare o per sopravvivere quello che propone Frenzen è una sua idea insomma cioè il prendersi cura dice salva ciò che ama dice proprio cioè il prendersi cura di della dimensione circostante magari anche circoscritta però preoccupandoci dei piccoli ambienti che ci circondano se ognuno di noi appunto di ambiente in ambiente facesse questo si limiterebbero i danni e si imparerebbe gradualmente a far fronte a un cambiamento climatico che non passerà ma al quale ci possiamo in qualche modo adattare e quindi coltivare la natura di prossimità preoccuparsi di salvaguardare l'integrità di ecosistemi naturali ma anche sociali perché per reagire al cambiamento climatico visto che dal punto di vista così macro non è reversibile si può cercare di far fronte essendo meglio organizzati socialmente per appunto domani procurarci l'acqua che verrà a mancare eccetera eccetera la proposta se vogliamo appunto riflettere in questi termini che uno di questi scrittori fa è di questo genere possiamo essere d'accordo o no ma tant'è però non meno così rilevante rispetto alla sua osservazione l'altra questione perché la sua domanda è semplice ma terribile no ma appunto è terribile nel senso che vanno fatte queste domande soprattutto per chi di letteratura a vario titolo si occupa per chi la studia per chi come voi è qui e quindi è interessato alla letteratura e ai libri cioè che cosa effettivamente può fare la letteratura la letteratura non 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 può direttamente cambiare le cose e guardi aggiungo magari mi criticherete la letteratura non deve cambiare materialmente cioè non deve essere concepita per avere una così una missione diretta perché facilmente se si se uno scrittore se un autore autrice si ponesse questo farebbe propaganda in sostanza quello che la letteratura può fare restando letteratura quindi con l'elaborazione della forma con la costruzione di una trama con il lavoro sullo stile con la creazione di una prospettiva ecco quello che la letteratura può fare è far vedere cioè come dicevo prima far aprire gli occhi farci accorgere delle cose perché poi attivamente chi può e chi vuole prenda delle scelte quindi la letteratura non fa semmai fa fare ecco vorrei dire invita chi coglie diciamo a trarre le conseguenze attive di ciò che sul piano del racconto della descrizione dell'immaginazione dell'illustrazione la letteratura la letteratura fa ecco perché se la letteratura dice di fare qualcosa o peggio impone di fare qualcosa forse non è più letteratura insomma diventa diventa una forma scritta che per cui dobbiamo trovare un altro un altro nome eh ecco ecco grazie a lei bene allora ringraziamo di nuovo Nicolò Scaffai grazie 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 dell'ascolto e della presenza grazie ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti